Qua? Ecco la tira. Eccola. Questa è la funivia del 2002, mi pare che c'è per i Panzer Titi. Questa è la funivia nel 1996 e il 62. Ecco qua, eccoci qua. Wow, che bella quella rosa, quella della Boe. Ecco, questo era un sostegno. Ecco, questo era un sostegno. Ecco, c'è un sostegno. Aiuto! Ecco, c'è un'altra funivia. Oh mio Dio, mamma mia. Ci sono davanti tutti. Wow, che bella una montagna. Ecco, c'è un sostegno. Secondo. Aiuto! Vedi che ci sono due funivia. Quella sopra è la portante ed è ferma. E quella sotto invece è la portante. Vuol dire che tira. Questa è la cabina. Eh? E le cabine. Guarda che c'è la cabina. Guarda che c'è la cabina. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Una funivia a Puglio. Siamo arrivati a Milano Porta Galivaldi. Ecco siamo in una stazione monte. Anche arrivati. Siamo arrivati. Devo salire ancora là. Wow. Che bello. Questa è la cabina. Wow. Wow. Ehm. By Holtz. Holtz 2012. Questa è la cabina. Guarda che è la stazione. No, la stazione è. Ehm. 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 Che è su questo stesso? Una funivia a Puglio. È in via. 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 Grazie a tutti.